E' stato un successo il primo appuntamento con la lirica in piazza, nell'ambito dell'estate in città, la tradizionale rassegna di incontri e spettacoli estivi organizzato dal comune di Pordenone con le associazioni del territorio. In scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi, portato a Pordenone da Il carro di Tespi, il progetto dell'associazione Società Filarmonia di Udine, che porta la magia dell'opera lirica nelle più belle piazze del Friuli Venezia Giulia. L'idea, promossa dal maestro Alfredo Barchi, mira ad avvicinare il grande pubblico e soprattutto i più giovani alla musica colta, trasformando le piazze friulane in veri e propri palcoscenici en plein air. L'opera scelta quest'anno è da sempre una delle più amate e popolari di Giuseppe Verdi. La rappresentazione ha visto il coinvolgimento di 52 professori d'orchestra, sul palco 13 cantanti, 30 coristi e 8 ballerini. Estate in città continua con il suo ricco calendario di appuntamenti, il cinema all'aperto in piazzetta Calderari, teatro, danza e sport ad animare l'intera città. L'atteso giovedì sotto le stelle, consueto appuntamento con lo shopping serale, con musei e biblioteca aperti fino alle ore 23. Da non perdere poi, gli appuntamenti musicali all'ex convento di San Francesco ed il ricco programma di visite guidate alla città e ai luoghi d'arte. Il programma completo di tutti gli eventi è disponibile all'indirizzo www.comune.pordenone.it Per ulteriori informazioni, telefonare allo 0434 392 917.